ciao a tutti ragazzi e bentornati su hardrock crypto da rick torniamo a parlare di banche ebbene sì l'altro giorno abbiamo fatto un video molti di voi hanno commentato perché perché le banche a quanto pare fanno le furbette dato che intimano ad alcune persone di smettere assolutamente di depositare i fondi su svariati exchange per appunto paura penso io questo è il mio pensiero poi mi direte la vostra perché togliendo i fondi dalle banche secondo me hanno un po paura giustamente vedono che c'è sempre più gente che con le crypto fa soldi toglie i fondi dalle banche che loro investano in varie cose anche ambigue a quanto pare e dunque hanno paura perché probabilmente più si va avanti più ci sarà gente che toglierà i fondi dalle banche naturalmente il titolo che avete letto è una provocazione so che abbastanza un'utopia la mia speranza è che in futuro ovviamente ci siano soltanto banche crypto anche se la vedo molto dura adesso ce ne sono già alcune in giro delle quale vi abbiamo anche parlato in passato ex banche che adesso si dedicano anche le crypto e questa cosa fantastica anche perché scusate io devo mettere i miei soldi in banca in più devo pagare la tassa annuale quindi ci rimetto pure dei soldi per tenere i soldi in banca che loro utilizzano per investire qua e là senza dirmi neanche che cosa cavolo fanno con i miei soldi e in più appunto io devo pagare mentre nel campo crypto sono loro che giustamente ti danno una percentuale dei loro introiti il che è abbastanza sensato anche perché le banche immagino che abbiano qualche capitale in riserva nelle loro tasche dunque a me sembra abbastanza una presa in giro a quanto pare molti di voi hanno un problema simile c'è chi ha cambiato banca c'è chi giustamente richiama al fatto di avvisare la propria banca che si investe in crypto però appunto non è un bel atteggiamento sicuramente da parte delle banche anche perché la mia poca esperienza con le banche non è sicuramente molto piacevole vi racconto un aneddoto che mi è rimasto abbastanza impresso mi ricordo anni fa avevo fatto il mutuo per la casa e avevo utilizzato giustamente una banca perché all'inizio dovevo fare così per forza mi chiedevano il 6 per cento da pagare annualmente e che è già una bella cifretta sapete com'è poi per uno che ha un lavoro eccetera non sono proprio due soldi io ho fatto tutto ciò per poi passare per fortuna mia perché il tasso è molto più basso al mutuo regionale che attualmente dello 0.9 per cento sì sempre un furto è però è un furto limitato ok è uno strozzinaggio un po più decente rispetto a quello della banca nulla mi recco in banca e cosa succede la dipendente della banca quando io gli ho detto che volevo passare al mutuo regionale si è presa malissimo ancora un po piangeva e sosteneva che io l'avessi sfruttata io sono rimasto veramente esterefatto non ho più parlato perché non pensavo fosse molto utile discutere a riguardo perché tanto cioè non so io la vedevo una presa in giro vi ho dato i miei soldi per due anni avete preso una percentuale comunque facendo nulla sì mi avete prestato dei soldi ma voi ne avete quanti ne avete quindi non non so è una cosa che non ho mai capito non voglio neanche capire da una parte perché mi fa soltanto girare le scatole in pratica e dunque evito in allegria e infatti in quell'occasione se me ne sono stato zitto me ne sono tornato a casa con abbastanza scazzo direi perché sono stato trattato come un usurpatore da coloro che diciamo che non hanno proprio una bella fama e non si comportano molto correttamente con i propri clienti a quanto pare dunque mi raccomando ragazzi non fate cavolate non adottate misure estreme c'è sempre la possibilità di cambiare banca poi ovviamente che ne so uno ha fatto la pensione con la propria banca come è capitato a me anche in passato dunque cambiare banca potrebbe diventare un problema è un casino bisogna studiarsela ma non essendoci una legge non capiamo proprio il perché di questo comportamento delle banche o meglio lo capiamo possiamo intuire il perché io ho il grosso sospetto che le banche per prime investano in cripto però giustamente a te non te lo vengono a dire anche perché gli fa più comodo tu gli dai i tuoi soldi loro li investono non ti dicono assolutamente nulla sotto sotto si fanno i loro trighi quindi li fa comodo che tu lasci i tuoi soldi in banca ma questa è una mia teoria ce ne saranno tante altre tra l'altro diteci le vostre perché questo è un tema abbastanza scottante e che secondo me in futuro andrà ad aggravarsi ulteriormente vista la situazione attuale poi ovviamente noi pensiamo che tra un po questa bull run scoppierà in allegria dunque magari si calmeranno le acque adesso non so magari prossimo mese già a gennaio anche perché di solito tutti si aspettano una cosa e quando uno si aspetta una cosa non capita assolutamente quella capita esattamente il contrario poi fosse per me io metterei tutti i miei soldi in cripto senza alcun problema ma giustamente c'è mia moglie che non la pensa esattamente come me dunque devo adeguarmi una parte dei miei soldi l'ho investita in cripto poi come già detto nell'altro video tra l'altro vi invito a vederlo vi apparirà la scheda tra poco qui in alto a destra in quel video dicevo che la mia banca non mi ha mai rotto le scatole a riguardo è anche vero che io e da diverso ma diverso tempo che non verso più niente quindi sto investendo in cripto con soldi che ho messo tanto tanto tempo fa dunque magari è anche un motivo per quello non mi metto a nominare la banca ho visto che alcuni di voi nel commento l'hanno fatto ci sta la grande grazie perché può essere utile come condivisione ma io sinceramente nel video mi astengo di fare nomi delle banche non vorrei mai sapete com'è le banche sono un po più potenti di me dunque non si sa mai cosa potrebbero combinarmi e quindi preferisco allegramente evitare anche se la mia appunto è sempre stata corretta fino adesso nei miei confronti quindi apprezzo assai dai facciamo così vi do un indizio inizia con la m così vi ho dato un indizio traete voi le vostre conclusioni anche perché ci saranno più banche immagino io almeno che iniziano con la m comunque tra l'altro ragazzi già che siete lì prendete ammazzate il bottone del like mi raccomando grandissimi eroi in più vi aspettiamo a roma yeah speriamo che ci siate abbiamo delle sorprese a riguardo assieme al mitico luca the crypto gateway poi after side crypto emiliano grandissimo e marco di mind chart mitico quindi rimanete sintonizzati sul tubo sui social eccetera perché ne vedremo delle belle in conclusione allora io spero in un futuro solo banche cripto giustamente ci devono ridare una parte dei loro simpatici introiti come tutto secondo me perché appunto queste multinazionali hanno capitali appalate e i comuni mortali invece non guadagnano assolutamente nulla tutto ciò non ha senso è durato anche troppo secondo me ed è giunta l'ora di dare una svolta radicale a tutto ciò poi non scendo nei dettagli anche perché non è mia competenza non sono un esperto a riguardo sono un comune mortale come penso la maggior parte di voi e non voglio incitare all'odio alla violenza ci mancherebbe altro anzi proprio per nulla perché non dobbiamo mai essere estremisti come ho già detto in passato io odio gli estremismi essere troppo estremi non porta mai a nulla di buono dunque ragazzi usate la testa traete appunto le vostre conclusioni ma informatevi prima ci sono tanti canali youtube ad esempio o siti affidabili che vi possono essere d'aiuto a riguardo per appunto approfondire la situazione per quanto riguarda le banche e cosa fanno e cosa non fanno eccetera ripeto io non sono un esperto ma finché non c'è una vera propria legge è tutto fumo dunque dobbiamo soltanto attendere c'era quella proposta che riguardava la finanza che ogni sei mesi se non sbaglio vorrebbe richiedere ai vari exchange di dichiarare i conti delle persone che investono in cripto quindi dovranno regolamentarsi ma questa è soltanto appunto una bozza quindi siamo allo stato primordiale di tutto ciò e sinceramente conoscendo abbastanza bene lo stato italiano e la sua velocità mi sa che ci metteremo un bel po infatti vi dico che con sincerità spero in un bel bear market così tutti si dimenticano delle cripto per anni e così andiamo ancora più a rilento e intanto noi che ci siamo dentro ci gioviamo in allegria se anche a voi tocca il tema delle banche immagino che la maggior parte di voi abbiano a che fare con le banche nel bene o nel male o tenete i soldi sotto il materasso meno male da qualche parte devi tenerle ovviamente meglio le banche cripto però purtroppo attualmente siamo ancora agli stati primordiali è ancora abbastanza far west dunque dovremmo aspettare in allegria prima di poter vedere una vera e propria rivoluzione che io sono convinto nel tempo magari ci vorranno tanti anni non è che ho questo sentore però sicuramente prima o poi arriveremo a fare questa benedetta rivoluzione sperando che non riescano assolutamente a stroncarci le gambe la vedo dura è perché grazie alla decentralizzazione possiamo fare cose veramente magnifiche però però mai dire mai purtroppo ci sono sempre imprevisti dietro l'angolo quindi sempre a massima attenzione voi cercate di trarre profitto muovervi con astuzia però sempre rimanendo naturalmente nella legalità e non andate a rischiare per nulla perché sapete ben com'è a cosa potreste andare incontro e non è bello assolutamente quindi sempre massima attenzione ragazzi mi raccomando bene ragazzi questo è tutto mi raccomando se vi è piaciuto questo video come già detto prima prendete ammazzate il bottone del like scusate ma il suone mi sta accecando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e accendete la campanellina per rimanere costantemente aggiornati lo so che i nostri video a volte possono essere visti nel tempo ma non sempre ragazzi a volte vi diamo news tempestive per rimanere sul pezzo quindi accendete questa dannata campanellina per rimanere aggiornati grandissimi alla prossima ragazzi ci si rivede sempre qui su hard rock crypto ciao 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 ciao